Via libera in serata del CDM al Super Green Pass durerà nove mesi. Si decide sui limiti a Enovax, sulla mascherina all'aperto e sul vaccino obbligatorio per alcune categorie. Imminente l'ok dell'EMA per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni e in Europa dilaga il contagio, più 11% negli ultimi sette giorni. Via libera dell'Unione Europea al documento di bilancio italiano, ma monito a limitare la spessa pubblica. Gentiloni, Europa in forte crescita, ma c'è elevata incertezza. Napoli candidata ad ospitare la sede per il Mediterraneo dell'EMS all'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima. Ieri la firma del protocollo tra Regione e Autorità Portuale. E' morto questa notte a 81 anni Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. E' stato tra i principali promotori della cultura del risparmio nel paese.